salve amici siamo i giocatori per caso adesso facciamo la sfida getta frutta al covo del cacciatore una sfida veramente veloce non c'è che dire ma iscrivetevi anche al nostro canale perché adesso metteremo dei nuovi video diciamo un dietro le quinte ma non voglio dire di più per il momento e a giorni ci sarà e sarà molto divertente per prima cosa andiamo a covo del cacciatore ma questo non è proprio un requisito corretto noi dobbiamo andare a covo del cacciatore a gettare della frutta cosa vuol dire possiamo andare lì direttamente cercare nelle varie casse che troviamo in giro le ceste del cibo diciamo cercare la frutta e poi lanciarla oppure l'alternativa è troviamo la frutta da un'altra parte veniamo qui sul posto e semplicemente la lanciamo ve ne basta una non ve ne servono mille perché potete raccogliere e lanciarla più volte nel mio caso il mio amico luigi ha trovato quello che serviva mi ha lanciato delle pannocchie e una noce di cocco allora io ho provato anche se immaginavo che la pannocchia non fosse proprio una frutta infatti lanciandola vedete non succede assolutamente niente adesso io prendo la panna e la noce di cocco la lancio e ho fatta una volta basta che la raccolgo ancora la lancio e sono due adesso la raccolgo ancora la lancio e ho finito la sfida in questo modo vi basta un solo frutto per fare quello che vi serve e la sfida come vedete è abbastanza semplice ora scusate ma devo un attimo fare i conti con quelle guardie se questo video ti è piaciuto metti un pollice in su che per noi un gesto bellissimo iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per essere sicuro di ricevere tutte le notifiche